Si è tenuta sabato scorso la cerimonia di passaggio della bandiera tra il maresciallo liberato la trecchia, presidente cedente e luogotenente Antonio Chiarelli, presidente ricevente dell'associazione nazionale carabinieri in congedo della sezione di Agropoli. A rito di benedizione religiosa tenutosi presso la chiesa del Sacro Cuore ed ufficiata dal parroco Don Nicola hanno presenziato il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti, il consigliere comunale di Agropoli Francesco Crispino, il comandante della compagnia carabinieri di Agropoli, il capitano Francesco Manna, il comandante della stazione dell'arma di Agropoli il maresciallo Carmine Perillo. Dopo la cerimonia dello scambio rinfresco presso l'oratorio della parrocchia.